E ritorniamo in studio. Fissate le nuove sedute del Consiglio Comunale. L'Assemblea Civica è stata convocata per mercoledì e giovedì prossimi dalle 16.30 alle 20.30. Diversi punti all'ordine del giorno, nella quasi totalità si tratta di documenti presentati dai partiti, mozioni e interrogazioni. Le delibere della Giunta riguardano l'approvazione dello schema di convenzione della tesoreria comunale, il riconoscimento di un debito fuori bilancio e la firma del protocollo per la protezione e valorizzazione dell'artigianato sardo. Poi si parlerà della TAR su trasparenza, campo nomadi, società partecipate, del caso riguardante il nuovo sito del Comune, del registro delle unioni di fatto e dell'attesa mozione sul taglio degli emolumenti. L'Istituto Alberghiero di Alghero, in occasione della sua partecipazione al Forum Gastronomico di Girona, ha visitato le scuole dell'Ostelleria e i Turisma della cittadina catalana, un momento importante durante il quale gli studenti algeresi hanno potuto conoscere la realtà di una scuola similare alla loro e la sua attività. Approfittando della loro presenza al Forum Gastronomico di Girona, tenutosi nella città catalana dal 24 al 26 febbraio scorsi, una decina di studenti dell'Istituto Alberghiero di Alghero, accompagnati dai professori Raffaele Rondello e Franco Silanos, da Giuseppe Itze, da rappresentante della Generalitat de Catalunia ad Alghero, Gianni Eliazadeglie, hanno visitato le scuole dell'Ostelleria di Turisma di Girona. La delegazione algerese ha avuto un'accoglienza speciale da parte del direttore della scuola, il professor Gonzalo Herrero, ed insieme all'insegnante di francese Susanna Pla e all'insegnante di turismo Sandra Vignolas hanno visitato le strutture della scuola di Girona. Il direttore ha illustrato agli studenti dell'isola che erano molto interessati come organizzata la scuola professionale che dopo un percorso di studio della durata di due anni, normalmente dai 16 ai 18, consente di avere un profilo professionale completo nel settore del turismo con un background di conoscenze che consente di lavorare nelle agenzie viaggi, operare come guida turistica, svolgere attività di animazione ed inoltre attendere alla reception in un hotel, dirigere una cucina come chef e la sala da pranzo di un hotel o di ristorante, preparare prodotti di pasticceria e svolgere funzioni da sommelier. Queste sono solo alcune delle varie figure professionali che vengono formate presso le scuola dell'ostelleria e turismo a De Girona con una preparazione che fornisce competenze specifiche necessarie per lavorare in questo settore. La scuola ha anche un ristorante aperto al pubblico dove gli studenti fanno pratiche e dove la delegazione di Alghero è stata ospite a pranzo. Gli studenti algheresi hanno valutato la visita positivamente con una certa invidia e ammirazione per la qualità e la varietà delle opportunità formative e hanno commentato gli aspetti interessanti come l'organizzazione della scuola e il suo profilo pratico e professionale sottolineando proprio il valore dell'apprendimento pratico. Il direttore, professor Herrero, a nome della scuola e del personale tutto ha espresso il suo desiderio di collaborare con l'Istituto Alberghiero di Alghero con interscambi sia tra studenti che tra insegnanti al fine di imparare ed arricchire l'esperienza tra le due realtà che condividono lingua e cultura. La sezione comunale dell'Avis di Alghero ringrazia anticipatamente tutti i docenti, personale scolastico e genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo numero uno che aderiranno alla donazione di sangue che si terrà domani presso la scuola elementare di via Vittoria Emanuele con ingresso da via Cagliari. Dalle 8 alle 12 sarà infatti presente l'equipe medica dell'Avis provinciale come da Prassi. A tutti i donatori sarà inviato l'esito delle analisi effettuate. E passiamo allo sport. Ritorniamo a parlare ancora una volta della questione del campo sportivo di Maria Pia che vede coinvolte Amatori Regbi Alghero e Algheregbi. Dopo aver sentito il presidente di quest'ultima, Fabio Corbia, spazio oggi alle dichiarazioni di Niazio Marinaro, storico dirigente dell'Amatori. Amatori Regbi Alghero, chiediamo anche voi come abbiamo fatto con l'Algheregbi sulla questione del campo sportivo di Maria Pia. Loro vorrebbero utilizzare questo impianto comunale? Sì, c'è questo problema. Abbiamo letto anche noi che l'Algheregbi non ha, come tutti ha problemi economici, ma anche noi ce li abbiamo, come tutte le squadre, tutte le società sportive e tutti gli sport. Siamo dispiaciuti di questo perché lo sport deve essere a servizio di tutti. Il problema è questo. Noi qua abbiamo una concessione di sei anni scaduta a novembre. La legge allo sport del Comune di Alghero prevede che in caso di incunzionare debiti deve essere per altri sei anni riprorogata e quindi stiamo in attesa di questo. Sappiamo che in Comune ci sono diverse opzioni, le stiamo aspettando e poi ci regoleremo di conseguenza. Sarà qualcun altro a decidere, un giudice civile, chi ha ragione, se no il Comune di Alghero. Al di là di questo, il campo è un campo di patate, purtroppo, perché noi già lo utilizziamo dalle 30 a 40 ore da settimanali, perché noi abbiamo la Serie A, l'Under 20, la 16, la 14 e i bambini, più le scuole del circondario che vengono coordinarsi a rugby. Quindi è un utilizzo eccezionale, sovrastimato. Avete pensato a una soluzione? La soluzione ci sarebbe, è che è un po' costosa. Se si riuscisse a fare un campo con manto sintetico, che sono bellissimi, potremmo giocare non 24, 25 ore al giorno. E quindi a quel punto non abbiamo più nessun problema. Si potrebbe utilizzare tutti quanti la struttura, il campo sarebbe naturalmente regolando gli orari per tutti. Chi utilizza la struttura dovrà accollarsi anche gli onidi di pulizia, di luce, di acqua, perché Abanoa insegna. E quindi non serve nessun problema. Sicuramente io non so quello che loro possono spendere al Camp Nou, però utilizzare per 10 ore alla settimana una struttura come questa, con luce, acqua, gas e pulizie, non è che sia economico. Che cosa chiedete all'amministrazione quindi? Sarebbe bellissimo avere un campo sintetico. A quel punto penso che si potrebbe con l'Alghi Reggibi condividere il campo da Reggibi, cercare gli spazi, quattorno anche per loro una clubhouse, gli spogliatori ne abbiamo quattro, si possono dividere in due, non avremmo nessun problema. Anche perché noi con l'Alghi Reggibi abbiamo provato a fare un accordo tecnico. Abbiamo detto all'inizio, facciamo delle squadre insieme, la 14, 16, 18, 16 e 20 insieme. Le facciamo insieme, i ragazzi le hanno quanti insieme. Tanto poi, i vostri ragazzi a 20 anni, cosa fanno? Abbiamo una squadra insieme a Dalghi Reggibi, dobbiamo andare fuori a giocare? Dopo tre anni di assenza, torna una delle trasmissioni storiche su Radio Onda Stereo. Da oggi, venerdì 1 marzo, alle ore 16 e replica domani alle 10, è in programma la prima puntata dello Sport in Onda. Veste rinnovate il nuovo conduttore, Stefano Soro, per il programma radiofonico che è possibile seguire sui 98.3 in FM e in streaming su Onda Stereo.it. Si parlerà di calcio italiano, in particolare di Serie A, con il giornalista e volto noto di Sky Sport 24 Sandro Sabatini. Grande spazio sarà riservato alle vicende della Dinamo Sassari con il presidente Stefano Sardara in collegamento telefonico e al calcio regionale con la presenza in studio dell'allenatore dell'olbia Mauro Giorico. La regia è curata da Giuseppe Gniolu, per i contatti c'è l'indirizzo email sportinonda.gmail.com e il profilo Facebook all'indirizzo www.facebook.com slash sportinonda. Ed era l'ultima notizia dell'edizione di oggi del nostro telegiornale, vi lascio come di consueto al meteo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per averci seguito,